...divertenti nella cerimonia di apertura. La regina che è stata abbandonata dal re, che sicuramente è in giro lungo il percorso, ma che sicuramente dalla prossima domenica sarà con voi su un diario a mare di Vireggio. Un altro messaggio importante, ce lo regala il dialogo in prima categoria che sta facendo il suo indresso qua in Piazza Massini, l'asso comune. L'indicola, Asqua, l'oro blu, chiamato da Fantasticarte di Simone Politi e Priscilla Borri. Un'animazione che inizia proprio fronte carro con un passaggio di questo blu caratterizzato dall'acqua. Un bene troppo importante per la collettività. E allora, eccolo. Acqua, l'oro blu, di Simone Politi e Priscilla Borri. Su progetto del collega giornalista Andrea Massi. Ed eccola, l'animazione direttamente dal carro. La voglia di partecipare, la voglia di divertirsi, la voglia di collaborare anche in questa domenica. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.